Ciao belli, bentrovati su Autoclassica Heritage. Vi devo raccontare una storia che forse più che una storia è una verdura fantastica. Ora vi spiego. Intanto come vedete è anche tornata la Daimler. Poi chi mi segue su Instagram sa che la macchina ha avuto qualche piccolo problemino, ma sono stati tutti brillantemente risolti in un posto straordinario dove succedono delle cose pazzesche. Insomma, lo vedrete meglio nel corso dei prossimi video, non vi voglio spoilerare troppo. Intanto la macchina è già aperta, fuori c'è bel tempo, io direi andiamo a farci un giro che vado avanti a raccontarvi la mia storia straordinaria. Voi intanto controllate di esservi iscritti al canale e sigla. Sembra un po' una storia fantasy perché è un po' come Frodo nel Signore degli Anelli. A un certo momento mi sono trovato a dover partire, questa volta non per la terra di mezzo, bensì per la valle Darda. E qui quelli più nerd di voi che conoscono il Signore degli Anelli capiranno. Ma torniamo noi, in questa valle esiste un paese che si chiama Vernasca e qui ogni anno si svolge una manifestazione epica appunto che è la Vernasca Silver Flag. È un evento veramente molto particolare, prendono parte un po' tutti quanti i tipi di auto, dalle stradali, alle prototipo, alle monoposto, alle anteguerra, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Una cosa che rende particolare la Vernasca è che oltre alle vetture ci sono anche degli ospiti molto importanti. Pensate che quest'anno tra gli altri c'era Patrese, Jürgen Bars, Thierry Bussen, Miki Biasion e fino a qui direte voi vabbè ok è il classico evento di automobili sportive con ospiti di primo livello. Ma la cosa che la rende particolare a mio avviso è proprio come è strutturata perché i piloti, le persone che ci sono, le automobili che ci sono, sono praticamente accanto a voi perché i box sono, box insomma box è una parola grossa, però diciamo che le automobili e i piloti che vi partecipano sono in mezzo alla gente e questo è qualcosa di incredibile. Cioè tu puoi passeggiare amabilmente per la città e vedere da una parte all'altra questi grandi piloti che si mettono lì a sistemare le loro automobili accanto a dei collezionisti e tu puoi vedere tutto quanto come se fosse la cosa più normale del mondo. Io direi che per un appassionato di automobili storiche o automobili sportive in genere è una cosa a dir poco senza pari, veramente incredibile. E un'altra cosa veramente molto bella che mi è piaciuta molto e che permette alla gente, passatemi il termine, normale, agli appassionati di avvicinarsi ancora di più è che voi potete tranquillamente avvicinare queste persone, insomma e con garbo magari fargli qualche domanda, chiacchierare, curiosare, insomma è qualcosa che a me non è capitato di vedere in altri posti, io lo trovo veramente fantastico da questo punto di vista. Pensate che poi oltretutto non ci sono solo questi grandi piloti, vi dico solo questa, mi sono trovato a passeggiare lì in mezzo tra una cosa e l'altra e mentre cercavo di raccattare la lingua perché non mi nascondo che ogni 2x3 ce l'avevo in terra, mi sono trovato accanto l'ingegner Limone dice chi è l'ingegner Limone? Ma il papà della Lancia 037, un personaggio epico, un ingegnere che ha fatto la storia dell'automobilismo scusatemi se è poco, e quando vi dico che vi potete fermare a fare due chiacchiere, io così ho fatto, è stato talmente gentile poi io l'ho anche un po' provocato, gli ho chiesto addirittura cosa ne pensava delle automobili elettri ah non mi credete, guardate voi stessi. Mi viene da chiedere il fatto che ancora oggi la 037 sia considerata da tutti una chimera quasi, un punto di arrivo, qualcosa ancora da imitare secondo me perché era sostanzialmente basata su concetti semplici, la massima escursione, cioè delle sospensioni una facile riparabilità del veicolo, manutenzione molto 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 semplice fatta per vincere, ma per poter anche intervenire per renderla vincente in gara in quegli anni ecco che non c'era l'elettronica che ti aiutava a risolvere i problemi devi essere capaci, non è che, lo dico che sia semplice, però allora giocavi solo con la meccanica cioè non c'era, l'elettronica era applicata in maniera marginale all'accensione del motore all'iniezione ancora meccanica voglio un po' provocarla, ma delle auto elettriche? allora, io ricordo ero ragazzino, il comune di Torino usava degli autocarri elettrici, dei lancia elettrici sicuramente per le zone urbane è un fatto da considerare che sia la soluzione tocca sana per l'ambiente ho qualche dubbio perché se poi come in Polonia fanno la corrente con le centrali a carbone l'auto è anche un'espressione di... il possesso di un'auto è ancora qualcosa che gratifica è giusto per l'auto sportiva tenersi il suo bel motore endotermico? sicuro, direi che l'auto sportiva che è un confronto... l'auto da corsa mi pare sia scimmiottare un po' cioè le work-on elettriche, ibridi e le vrc elettriche fa sorridere, è giusto per dire che sono... compitino fatto? eh, compitino, ma tra l'altro gruppo da parte ibrido vuole per tutti necessariamente cessa il confronto, devi ridurre i margini di confronto altrimenti vai con dei costi enormi il motore più affascinante di tutti? il motore affascinante è quello che non si guasta, non dà problemi visto un vero gentiluomo di altri tempi direi anche di ingegneristico buonsenso straordinario comunque, parlando di auto elettriche, Lancia Stratos sì, quella vera, non... la Lancia Stratos, ce n'erano lì diverse, devo dire ma una mi ha colpito in modo particolare pensate che andava a biocarburante e come andava? ad ogni modo, come avete visto, insomma, girando tra i box tendoni, chiamiamoli così ce n'è davvero da impazzire dalla Miura, alle Ferrari poi cos'altro c'era? Abarth, ce n'era quante ne volevate Alfa Romeo, più di quelle che riuscite a contare straordinario un tendone in particolare mi ha colpito che era quello degli sponsor Maserati lì oltre, chiaramente a una meravigliosa esposizione di Maserati Classico ho anche trovato chi ha avuto la buona pace di mettersi lì e di spiegarmi in che cosa consiste il programma Maserati Classiche davvero molto interessante, guardate Maserati Classiche è un ente relativamente giovane in Maserati che si avvale dell'utilizzo di tutto il background storico che per fortuna Maserati può vantare e Maserati Classiche articola il proprio programma su tre diversi servizi un servizio di certificazione di autenticità per le vetture classiche più o meno moderne o storiche un programma di ricostruzione dei componenti storici e l'assistenza al restauro per i clienti che desiderano fare restauri più o meno approfonditi delle proprie Maserati ma voi il restauro lo seguite dall'Ala Z quindi avete martellatori, motori, come funziona? no, in realtà no e secondo me è un atto dovuto a chi ha la vera professionalità e vera maestranza noi come Maserati possiamo, come dire, come base fornire informazioni legate alla vettura come è stata costruita, con che abbinamenti, colori, optional, particolarità eccetera fino a proseguire al supporto come project manager di un vero e proprio restauro dove però la parte motore e powertrain viene fatta internamente a Maserati mentre invece per tutto il resto, che chiaramente è estremamente importante quindi il restauro di lato telaio, la carrozzeria, l'impianto elettrico, gli interni ci avvaliamo di partner consolidati che ripeto sono loro i veri owner di questa professionalità di cui è corretto avvalersi per far sì che poi in modo congiunto la vettura torni ad essere nel suo pieno splendore fantastico, quindi cuore Maserati e poi insomma il rispetto degli artigiani che orbitano intorno a questo mondo fantastico comunque non so voi ma io dopo tutte queste chiacchiere seppur interessantissime ho sete ovviamente ho sete di motori, di benzina, di baccano e quindi cosa c'è di meglio che qualche accensione di motore e qualche strappo alla partenza guardate, rinfrescatevi con me e quindi E' una vettura elegantissima e ha smacchata. In California e in Arizona. Ci sono auto da tutte le parti del mondo. Vedo una marea di auto che vengono dall'Inghilterra, moltissime dalla Francia, parecchie tedesche. Guarda che qui questa Giulietta. E molte di queste macchine arrivano sulle loro ruote. Questo è lo spirito del motorismo. Questo è come bisognerebbe viversi veramente l'automobilismo a mio punto di vista. A me non piacciono le automobili che sono, diciamo così, destinate a prendere polvere dentro le collezioni. Preferisco di gran lunga le auto che vengono adoperate, le auto che vivono, le auto che fanno il loro mestiere. Comunque è veramente bello vedere come questa manifestazione sia arrivata trasversalmente a tutti. Dai giovani ai giovani con più anni di esperienza, a persone che sono arrivate da tutte le parti del mondo. Nonni, nipotini, papà, figli, mamme, figlie. Bello, veramente bello. Questa cosa mi ha colpito un sacco, devo dire. Oh, poi sapete com'è, no? Insomma, come in ogni storia che si rispetti ci vuole un problema, no? Bisogna che ci sia l'avventura. E io avevo esattamente un problema, infatti. Ovvero, man mano che le auto da Castellarquato partivano e arrivavano verso Piazza Vittoria, a Vernasca, rimanevo senza macchina da filmare. Mi serviva quindi un passaggio per arrivare lassù in cima. E come in ogni favola che si rispetti, se tu chiedi per piacere, qualche cosa di masico succede. Eccola qua, EB110. Non ci si crede, è una roba fuori di testa, una macchina... Boh, ragazzi, meraviglia. Però, vabbè, questo sarà il mio Uber per oggi, quindi per salire alla parte superiore, insomma. Direi che poteva andarmi peggio, devo dire, sostanzialmente. Rilassato? Tantissimo. Perfetto. Tidiamo il finestrino. Qua! E anche comoda, è pazzesco, è comoda, è una cosa che non mi aspettavo. No, no, è una delle macchine più riuscite del mondo. E' incredibile, veramente. Arriva. Ce lo dobbiamo fare. Ora, mi sa che con l'app di Uber devo per forza mettere la mancia, perché insomma, quando si presenta un Uber così... Vedi tu, questi paesini qua, uno adesso si ferma, va a prendere un caffettino, un gelato. Ti immagini la signora del bar? Uno si presenta con questa. Ma poi, la cosa che mi colpisce è anche l'eleganza, perché pur essendo comunque estrema, c'è tutti gli interni in pelle, la radica, insomma, non si fa mancare niente. E' una signora questa. Meraviglioso. Aspetta, io sento la quattro segretina. Ah, modello Balboni? Eh, sì. Si può dire Balboni dentro all'ogale? Mi sto per cacciare la macchina. Valentino è un caro amico, quindi lo puoi dire sempre. Ah, perfetto. Basta che non ti sente la macchina, io sono a posto. Una volta arrivato in piazza, il sogno di ogni appassionato di motori è lì davanti a te. Una accanto all'altra prendevano posto, si parcheggiavano, tutte in maniera più o meno ordinata, e soprattutto con buona pace dei piloti più esuberanti. Dopodiché riuscite più o meno a recuperare un minimo di sanità mentale, perché potete capire che, insomma, lì in mezzo non è che fossi proprio al 100% delle mie facoltà mentali, e forse questo un po' mi ha aiutato, sono riuscito letteralmente a rapire Jürgen Warns e a fargli qualche domanda. Lui non solo è un pilota eccezionale, ma diciamo che ha anche scritto una delle pagine più importanti della storia della 24 ore di Le Mans. Insomma, un personaggio veramente, veramente di grande spessore. Sono riuscito a farmi spiegare, secondo lui, qual è il modo migliore per guidare la Porsche 917 LH che aveva portato lì. Come se mai mi dovesse capitare di guidarla. E come se questo non fosse già abbastanza, è anche riuscito a darmi qualche piccolo suggerimento culinario. Discutibile, ma qualche suggerimento culinario. Io ero preoccupato di rendere sicko dell'food italiana. Quindi sono andato a Sicilia con la sausage e cose così. Quindi ho mixato ora, facendo i miei spaghetti con la sausage, e mi mixo. e mi mixo e mi fanno fantastico. Ora, chiaramente, golosi che non siete altro, vi ho fatto vedere giusto un assaggino di quella che è stata l'intervista con Jürgen. Anche perché tutta arriverà completa in un altro video, dove vi voglio raccontare meglio la sua storia, e la storia di questa macchina, che insomma, a livello di follie, se la giocava con la GT40, ovviamente. E beh, insomma, adesso vedremo cosa riuscirò a combinare. Anzi, vedrete. Pensate che prima che tutto finisse, sono riuscito anche a intervistare il presidente della Vernasca Silver Flag. Una persona squisita, un gentiluomo d'altri tempi, direi. Forse una di quelle poche persone, come si usava una volta, insomma, uno di quelli che, ecco, direi così, che più che sangue, nelle vene, deve avere proprio solo che benzina. Sono un po' di anni che riusciamo a avere vetture, effettivamente, che difficilmente si vedono ad altre manifestazioni italiane. forse perché, appunto, in tutti questi anni abbiamo seminato tra appassionati, tra collezionisti a cui interessa fare muovere le vetture e, insomma, abbiamo un parterre del Roi non da ridere. Poi quest'anno, effettivamente, abbiamo avuto alcune icone della storia dell'automobilismo sportivo. Un concorso di eleganza, sì, è bello, però non ti dà l'emozione che puoi provare quando senti quelle macchine in moto. Per cui noi l'abbiamo chiamato concorso dinamico, appunto, per dare questa idea di dinamicità, cioè le vetture, specialmente quelle da corsa, che hanno, che raccontano una storia magari di 50, 60, 80 anni fa, fatte di Targa Florio, di circuito del Mugello, di 24 ore di Le Mans, di Mille Miglia. Sì, sono belle, viste su un prato, tutto belle e ordinate, ma sono belle, sono meravigliose, sentirle in moto e sentirle fare quello per cui erano nate, cioè rombare. L'emozione che si prova vicino a una Stratos, vicino a una Bugatti, che sta andando, che sale, secondo me, non ha pari. Ci sono le Abarth, ci sono le Bugatti, che insomma vanno a benzina e vanno a Castrol, per cui proprio quando partono, alcune no, ma alcune si lasciano proprio dietro la frore delle gare degli anni 60, degli anni 50. È straordinario. Poi il percorso di per sé è immerso in una cornice, diciamo pittoresca, è dire poco. È un percorso, se vogliamo, bello, è classico il climbing all'inglese, però portato sui colli piacentini, insomma. È un po' tutto l'insieme che rende questa manifestazione un evento per cui moltissima gente quando viene effettivamente a vedere per la prima volta ti dice non credevo che fosse una cosa così meravigliosa. Sì, sì, confermo. Anzi, dovreste mettere quasi come slogan. Come slogan. Non crederete ai vostri occhi. Esatto, esatto, proprio direi proprio di dirlo. Ragazzi, intanto vi dico che la Daimler sta andando che è un orologio svizzero. Meraviglioso. Sono entusiasta. Mi godo ancora un po' il giretto e le ultime cose ve le dico di qua. Anzi no, ve le dico di là. La Silver è finita. È stata un tour de France. Macchine, motori, profumi, piloti, interviste. Ho fatto il Diavola 4. È stata un'esperienza straordinaria. Mi sono divertito tantissimo. Se vi capita venite a fare un giro. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione perché è veramente un'esperienza da fare. Ragazzi, che cosa volevo dire? Se il video vi è piaciuto like e condividete. Ci vediamo su Instagram e ci sentiamo su Telegram e come al solito chi non si iscrive al canale è un iscrivente.